Rubato nella notte un furgone dell'associazione Trentino Solidale usato dai volontari per distribuire ogni giorno oltre 8000 pasti alle famiglie in difficoltà numerose e le attestazioni di solidarietà. Il servizio di Elisa Dossi. Rubato nella notte a Trento in Lungo Fersina, alla sede di Trentino Solidale, il furgone utilizzato dai volontari per la consegna del cibo ai bisognosi. È il quarto episodio in due mesi, ben tre, i furti nelle ultime settimane, tutti finora di piccola entità, per lo più per svaliggiare i distributori automatici ma con gravi danni alla sede dell'associazione. Il presidente Giorgio Casagranda ha sporto denunce ai carabinieri. Questo naturalmente ci preoccupa perché in tempi così ravvicinati avere tanti furti ci mette nelle condizioni anche di difficoltà rispetto al far fronte all'emergenza perché avere un furgone in meno significa non riuscire a raccogliere il cibo che noi quotidianamente facciamo e poi distribuirlo alle famiglie bisognose. Trentino Solidale, evitando gli sprechi, raccoglie ogni giorno 30 quintali di cibo in scadenza e li distribuisce in 35 punti da Vipiteno ad Affi grazie ai propri volontari, garantendo 3 milioni di pasto l'anno ai bisognosi, oltre 8000 al giorno.